Buongiorno ragazze, sono Rebecca Burjui e sono Master Pilber. Oggi vi voglio presentare una linea semi permanente che si chiama Brush & Go Gen & Lack. Perché devi scegliere la linea Brush & Go? È una linea innovativa di semi permanente che non necessita di una base e di un top. I colori sono estremamente pigmentati, infatti basta solo una passata per ottenere una copertura perfetta. I tempi di polimerizzazione sono di due minuti in lampada UV. I colori sono disponibili in formati da 8ml e da 5ml. Inoltre io vi consiglio, per una maggiore durata in tempo, di applicare anche il top Brush & Go Gen & Lack, che è un suo top creato solo per questa linea. Inoltre se volete approfondire la vostra gamma di colori, nel catalogo vi invito di visitare la pagina 46 dove trovate tutti i colori i colori e anche il step-by-step della corretta applicazione.